basta dico solo una cosa che bel cacciomeccato bravo napoli bravo abbiamo acquistato il momo ufficiale Pierluigi Gollini il nuovo giocatore del napoli il nuovo pochione del napoli ma gioca nella nazionale allora voglio io ve lo dico qua e non lo dico più se uno mi gollini la prossima stagione diventerà il portiere titolare del napoli perché alice meret molto probabilmente andrà a giocare in inghilterra e vabbè per me è un acquisto che mi piace tantissimo spero che non abbia difficoltà ad aumentarsi e buonasera ragazzi commentate condividete iscrivetevi al canale ovviamente mettete un mi piace e noi ci vediamo domenica con il post partita di napoli 1 bella vai io foccia Gollini bella ciao